Salve a tutti ragazze e ragazzi, oggi vi spiegherò come si fa a ruttare veramente potente, cioè a fare dei rutti veramente enormi. Mi presento, io sono la ragazza bionda che rutta, sono campionessa mondiale di rutti, infatti io mi alleno ogni giorno, il rutto parte da qua, mi alleno ogni giorno a far rutti e a partecipare a gare, campionati, poi arrivare al torneo mondiale che ho vinto ovviamente. Allora, vi do una dimostrazione subito e dopo vi spiego come si fa. Il rutto parte da qua, dallo stomaco, diciamo dalla bocca dello stomaco, si prende una bella boccata d'aria e tante boccate d'aria, susseguitamente e subito dopo, così. Ecco fatto, dopo aver incanalato tutta l'aria dentro lo stomaco, si aspetta che il rutto, ovvero l'aria del rutto, sale, dopodiché si rutta. Come avete visto, è bello potente, ma sono capace di farne un altro molto più forte. Allora, rispiego nuovamente per chi non ha seguito e ha aperto il video ed è arrivato subito a questo momento, anche se non si sa perché. Allora, si prende l'aria e si incanala qua, nella zona panciale, da dove poi si emette il rutto. Da qua si incanala l'aria con la forza complessiva dal veretano, dal culo entra l'aria e la spinge verso sopra per arrivare alla bocca, passando ovviamente dal seno, dalle mammelle. Passa, arriva nella gola e si espelle fuori, in questo modo. Molto bene. Allenatevi a fare questo respiro profondo e tanti respiri tipo a mitraglia. L'aria è scesa, è qui in questo momento, adesso io con la forza annatica la spingo verso fuori. Uno, due e tre. Lezione conclusa e buon rutto a tutti. Ne avevo un altro po' dentro. Voi raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, mettete mi piace, condividete, commentate e guardatevi questi video qua. E in descrizione a questo video trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+. Ciao, ciao! Grazie a tutti.